La RAI avvia una procedura disciplinare per il telecronista di RaiSport Lorenzo Leonardozzi, responsabile della battuta razzista pronunciata nel corso della cronaca delle gare di tuffi del 17 luglio. La RAI lo ha annunciato con un comunicato diramato in questi minuti in cui esplicita la decisione della Di Roberto Sergio, presa in conseguenza le segnalazioni giunte all'azienda nelle scorse ore. La RAI ha avviato una procedura di contestazione disciplinare nei confronti del giornalista di RaiSport e tutti i provvedimenti necessari per il collaboratore tecnico Massimiliano Mazzucchi. L'amministratore delegato Roberto Sergio nel commentare quanto avvenuto questa mattina ha dichiarato un giornalista del servizio pubblico non può giustificarsi relegando ad una battuta da bar quanto è andato in onda. Ho dato mandato agli uffici preposti di avviare la procedura di contestazione disciplinare e ho chiesto al direttore di RaiSport Jacopo Volpi che faccia rientrare dal Giappone immediatamente il telecronista e il commentatore tecnico. Ma cosa ha detto esattamente il telecronista? Durante il commento Leonardozzi si lascia andare a una battuta sfondo razzista in relazione agli atleti in gara. L'unico video disponibile in rete, almeno al momento, fa riferimento alla diretta trasmessa da RaiPlay durante la gara di tuffo sincronizzato. Commentando la prova di Riccardo Giovannini e Eduard Timbretti Gugiu, Leonardozzi storpia il nome dell'atleta italiano cavalcando uno stereotipo sul linguaggio cinese. Riccardo diventa dunque Liccaldo. I cinesi direbbero così. È la frase pronunciata dal telecronista e finita nel video di pochi secondi che circola in rete. In queste ore è arrivato anche il commento di Leonardozzi che ha di fatto ammesso anche le frasi di stampo sessista, denunciate da un ascoltatore che non era stato possibile recuperare in quanto non caricate sulla piattaforma RaiPlay. Chiedere scusa? Sì, ma solo ai telespettatori che hanno sentito la barzelletta a causa di un errore tecnico. Prendo le distanze da quanto accaduto e dalle accuse di sessismo. Sul fatto che ho detto della corporatura grande degli atleti olandesi, lo faccio anche per gli uomini quando hanno un fisico grosso e in bel strutturato. Quindi si sta montando un polverone, un caso dal quale prendo le distanze. Grazie a tutti.